Salve a tutti, allora io volevo fare un intervento per parlare della situazione australiana e direi che comunque è insostenibile che comunque il governo australiano dice di voler fermare i rughi, nelle ultime settimane ci sono stati 400 volevo parlare della situazione australiana, nelle ultime settimane in Australia ci sono stati 430 rughi che hanno causato oltre 10.000 ettari che sono bruciati e il governo australiano dice di voler fermare i rughi però rimane impassibile e immobile e non fa nulla, anche il cielo di Sidney era diventato completamente rosso adesso la situazione è un po' migliorata però la situazione non sembra cambiare vorrei semplicemente accendere un faro per cercare di mobilitare il più possibile il mondo per cercare di fare qualcosa per fermare questi rughi e far capire al governo australiano e anche agli altri governi del mondo che se non salviamo questo pianeta entro il 2030 probabilmente, già dal 2031 la situazione probabilmente sarà troppo compromessa e non ci sarà più molto da fare per poter evitare che la situazione si possa in qualche modo è un po' migliorata